Sono il referente dell'infanzia Pio Decimo. Per noi la parola chiave è bambino al centro, bambino competente, bambino fatto di cento, cento linguaggi, cento mondi da scoprire. I am the maestro of motoria in infanzia at Pio Decimo. I'm mother tongue English. So one of the main objectives in our lessons is to create a good solid foundation in which the children really appreciate and learn to love doing sports. So we work in a gym, we go out in a playground, we work on strength, speed, agility, balance and usually all mainly through a medium of games and there's always lots of laughs. Sono l'insegnante della sezione primavera. Le nostre parole chiavi sono cura e benessere. Cura in tutto quello che riguarda il bambino nella sua routine quotidiana e benessere in quanto cerchiamo di creare il più possibile un ambiente sereno e rassicurante per ogni bambino. Sono la maestra di madrelingua all'infanzia per inglese. Qui non si insegna bambini solo inglese ma viviamo inglese. Facciamo dei veri mini projects con i bambini. Quali? Tipo gardening, little scientists, pet therapy. E sì, facciamo i veri esperimenti con i bambini. In inglese è divertente, semplice e unico, proprio come i nostri bambini qua.